Buongiorno ragazzi, mi chiamo Michele, sono del liceo Tessoni di Modena e questa mattina mi trovo presso la fondazione Golinelli per svolgere un'attività di alternanza scuola lavoro. In particolare ieri mattina abbiamo visto un po' le procedure di sicurezza all'interno di questa struttura, mentre stamattina abbiamo iniziato a lavorare in laboratorio e abbiamo analizzato delle urine artificiali e in particolare tramite un specifico liquido di colore blu abbiamo osservato se all'interno delle urine era presente del glucosio o se non lo era. Devo dire che l'esperimento è stato molto interessante e questo è solo l'inizio di una settimana, di 5 giorni all'interno di questa struttura e già mi è molto piaciuta e devo dire che un giorno, tra qualche anno, se dovessi laurearmi potrei pensare di venire a provare qui dentro qualche lavoro.